we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo tantissime novità su quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite ieri abbiamo visto l'arrivo di una delle nuove location la gigantesca cuccia di anton ne parleremo bene il cane gigante che ancora nessuno ha visto che in realtà scopriremo essere collegata a qualcosa di più ma oggi vedremo anche le nuove fasi dei rift beacon tutto quello che sta arrivando i nuovi suoni anche del fortnite merce si perché a ottobre saremo ancora in questa season e arriverà anche questo evento prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento che coinvolge tutti voi giocatori da pc che montate come scheda grafica una rtx finalmente è disponibile o meglio nella giornata di oggi arriverà disponibile il famoso ray tracing che cos'è ray tracing ragazzi è praticamente una funzionalità che viene data appunto i possessori delle schede grafiche rtx che migliorerà notevolmente l'esperienza di gioco se andate nella pagina ufficiale di twitter di invidia si vede un piccolo trailer e quindi ragazzi abbiamo guardato nei file di gioco e sono presenti delle righe che forse arriveranno direttamente nelle impostazioni ne leggiamo un paio ray tracing reflection ray tracing reflection can greatly improve the look può migliorare notevolmente il look ma potrebbe ridurre ovviamente le performance oppure ray tracing is disabled ray tracing must be enabled sono tutte delle voci che sono sicuro arriveranno in una sezione dedicata dell'impostazione quindi per tutti quelli che vogliono godersi al massimo e vi garantisco wow che bello che è fortnite giocato con tutti gli effetti al massimo potete fra poco farlo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo anche una notizia che arriva direttamente da diana monster diana monster è semplicemente una streamer estera che ha già collaborato con fortnite e durante un suo stream di qualche giorno fa o di ieri addirittura si è lasciata sfuggire i nomi delle due location che stanno per arrivare una in realtà l'abbiamo già vista ant man's mansion che appunto dovrebbe essere quella dedicata al gigantesca cuccia del cane di cui vi ho appena parlato e poi the stalking of black panther quindi la seconda in realtà penultima location che arriverà invece alla sinistra di brughiere brumose tra l'altro se guardate già vicino a brughiere brumose noterete che sono apparsi due nuovi rift tanta roba ragazzi perché mi piace il fatto che ogni giorno vengano aggiunte delle piccolezze durante i nostri gameplay il che vuol dire appunto che succedono cose la mappa è dinamica ci sono delle piccole modifiche apprezzo tantissimo questo sforzo di epic games e passiamo subito intanto a dare un'occhiata più da vicino più nel dettaglio all'ent menor praticamente la cuccia gigante che abbiamo visto apparire nel corso di ieri oggi ne apparirà un'altra di location quella di cui vi ho appena parlato e come vedete ci sono degli oggetti molto molto particolare intanto abbiamo una bellissima visuale direttamente da un'angolazione notevole come vedete appunto c'è la cuccia ci sono i giocattoli per cani ci sono anche delle cose molto curiosi quella specie di capsule torno indietro che si chiamano pym particles e dovrebbero essere tutti degli oggetti dei riferimenti al film di ant man io personalmente non l'ho visto però se qualcuno l'ha visto sicuramente sa di che cosa sto parlando sappiamo anche che tra pochissimo arriveranno anche delle mini sfide dedicate proprio alla end manor io minchia pronunciare italiano è difficilissimo ragazzi sappiamo solamente che ci sono delle challenge relative all'ent manor che potranno essere abilitate completando completandole durante la settimana numero 2 abbiamo semplicemente un una bozza di una delle due sfide this landmarks code name was di il board quindi sappiamo che si chiamerà in questo modo una carrellata velocissima di alcuni degli oggetti le stiamo vedendo in questo momento ad esempio la cuccia ma la cosa che ci fa un pochettino più interesse è questo ragazzi perché nella stessa sottocartella dell'ent manor è presente anche quest'uovo e quest'uovo dovrebbe dirci qualcosa tutti quelli che hanno giocato la season 8 si ricorderanno sicuramente che all'interno del vulcano ma già arrivavano dalla season 7 queste uova erano presenti e sono quelle che hanno generato il dogus quindi se non ricordo male praticamente il mostro che ci ha portato poi nell'evento che ha concluso la season 9 dove c'era il robot gigante costruito da noi tra virgolette contro il mostro che è uscito dal mare uno degli eventi più belli a parer mio però quelli sono dettagli non sappiamo molto del perché abbiano inserito queste uova quindi attenzione perché vi terrò aggiornati non appena scoprirò qualcosa di più e diamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo all'inizio del video questa season prenderà completamente il mese di ottobre il mese più importante per quanto riguarda fortnite perché c'è l'evento a cui il team tiene particolarmente mi riferisco ovviamente al fortnite mers e abbiamo dei nuovi file audio ve li voglio far ascoltare come vedete ragazzi sono alzico avete ascoltato sono davvero molto interessanti non sappiamo ovviamente nulla di quello che abbiano in mente di fare per questa festività a cui loro tengono tantissimo non dovrebbero assolutamente deluderci in quanto ci sono sempre dei premi che arrivano quindi roba gratis da ottenere è successo l'anno scorso è successo due anni fa non ricordo se sia successo tre anni fa se devo essere sincero ma non ne rimarremo assolutamente delusi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché tra pochissimo dovrebbe arrivare lo starter pack di questa season è uscito il bundle di silver surfer qualche giorno fa molto probabilmente non si accavalleranno nello shop e i due outfit quindi si dice che quando esce dalla rotation dello shop silver surfer entrerà il nuovo pack da 499 si chiama street serpent se non ricordo male il nome della skin come vedete è un ninja ed è davvero molto bello è per essere uno starter pack mi piace davvero tanto corredato con il suo piccone con il suo backpack e ovviamente con 600 v bucks dovrebbe avere lo stesso prezzo 499 io invito sempre tutti se ne avete la possibilità di prendere lo starter pack perché 600 v bucks comunque anche se la skin non è delle migliori fanno sempre comodo ma in questo caso veramente molto molto bella e diamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vedete insieme a tutte le cose che stanno modificandosi in mappa anche i rift beacon sono da tenere sott'occhio ieri mattina infatti siamo entrati nella fase 2 e non dico fase 2 a caso ma è proprio la fase 2 perché così è chiamata nei file di gioco come vedete ci sono delle scie luminose che sono notevolmente più evidenti guardandole da vicino ma in questo caso anche da lontano vi ricordo che i rift beacon sono dedicati a tony stark comunque a tutta la storyline che poi vedrà la modifica dell'autorità e parlare di autorità da ieri mattina si comincia a vedere più o meno sparsi in diversi punti della mappa questo bagliore verde non abbiamo idea di che cosa stia a significare sappiamo però che sarà anche questo dedicato a quello che sta decidendo di fare tony stark e insomma ragazzi di eventi e mini eventi ne vedremo davvero tantissimi io per oggi vi ringrazio tanto per avere guardato il video news mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel pollizioni in su iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao